Bicicletta da donna misura 26, vintage anni 50, completamente riassemblata e revisionata, belle le cromature, filettatura rossa eseguita manualmente, colore nero lucido, già corredata di attacchi per eventuale parapiosta, viene proposta ad euro 150. Per informazioni rivolgersi a Roberto Rossi, cellulare 366 49 05 660, possibilità di consegna in un raggio di 50 km da Milano. Grazie per la visione!